E ragazzi io sono Ferenike e io sono Stef e questo giochiamo a Dude Theft Wars ovvero GTA 5 per telefono con grafica cartoon Proprio tradotto semplice 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 Allora l'ho provato leggermente sembra abbastanza carino un po' buggato perché a quanto pare è ancora in beta Però comunque secondo me è simpatico e divertente e ci sta a giocare un pochettino Dobbiamo scegliere il nostro personaggio al momento abbiamo soltanto Jack disponibile ma ce lo faremo andare benissimo Sono più cattivi Lo so però stai tranquillo perché ci sono delle cose che a te piacciono molto Io questo gioco non lo conosco Lo so Quindi sarà tutto una sorpresa Infatti qua ci dice che ancora hai inizio a chess, c'ha Visa, bla 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 E qui si parte Abbiamo il classico salvataggio dei vecchi GTA non so se ricordi ma l'ho fatto così che erano dentro le case Carino Per il resto cosa abbiamo? Ci possiamo muovere, possiamo colpire se vogliamo sbeffeggiare, possiamo saltare, possiamo mirare Ok Possiamo cambiare e di base abbiamo delle granate e la mazza Ok Ok Possiamo mettere ovviamente in pausa E possiamo vedere delle bellissime pubblicità Steph Tutto a posto Giusto Che cavo Cioè uno vuole mettere in pausa Cioè che momento era per mettere un po' Vabbè effetti vai in bagno mentre c'è musica Ci sta Comunque e dicevo la cosa che mi è piaciuta di più è che c'è lo slow motion Se io premo questo Come su Max Payne E ti posso far vedere dopo a che serve Però per ora Hai mai giocato Max Payne? Sì Fede Io i primi due, primi giochi che ho giocato in serie, bellissimo Ovviamente si può guidare Perché siamo su GTA E ovviamente quando uno guida la prima cosa che pensa è Di mancare la gente Perché sono così scarso? Cioè dai Perché non hai la vena da criminale tu Sei troppo buona Guarda che ti faccio giocare Uh quello lì Però sta camminando lui per strada Non sarebbe neanche colpa mia eh Guarda le mezzo alla strada Arrivederci Badun Una stella di 5 Indica quanta polizia hai Ok Però in questo gioco hanno fatto una cosa che dovrebbe fare anche GTA Per quanto poi non sia realistica Ok Quando tu estendi i poliziotti Le stelle diminuiscono invece che aumentare Della serie Mi stanno cercando Io li ho stesi Non c'è più nessuno che mi cerca Perché comunque la polizia su GTA Guarda lì È molto invadente Allora tu adesso metti slow motion Tiri una granata E ti godi la scena Dai Dai Esplodi In slow motion Ovviamente la granata ci mette molto Ma guarda come ha azzeccato il tempismo Vai Esplodi entrambi? No Ovviamente poi non è che sia realistico Ma dai Un gioco non deve essere realistico Mazzate in slow motion Vai Steph Vieni qui Maledetto Sulla nuca Steph Sulla nuca È finito la slow motion Cavolo Cavolo Ma Non ti sta neanche colpendo Steph Eh allora l'ho steso E polizia Vedi adesso non ho più stelline Perché l'ho steso chi mi cercava Eh ma te l'ho detto ci sta E ho anche i soldi da raccogliere Non deve essere realistico Deve essere divertente sto gioco Lo so infatti anche mi è piaciuto un sacco La gente scappa perché è spaventata Oh mio Dio E qua noi abbiamo il telefono Ah anche il cellulare abbiamo Sì nel cellulare tu teoricamente ti puoi comprare le cose Un'auto Tipo se tu volessi la Lamborghini Basterebbe guardare semplicemente una pubblicità C'è pure la Buggy per una pubblicità Tutte queste robe le puoi avere semplicemente guardando una pubblicità Allora voglio scegliere cosa voglio Aspetta La Formula 1 però costa mille Dove per essere investito La sedia di PewDiePie Bellissimo 400 dollari Allora quale vuoi? È una bella auto Secondo me ci sta la Lamborghini Sì dai Questa? Ok Ok Salve Vabbè Aspettiamo Allora Mentre facciamo vedere qua Così il consiglio non si vede la pubblicità Di cosa parliamo? Di quanto è carino sto gioco Di quanto spacchiamo la Lamborghini adesso Perché? Però è carino C'è sta Ovviamente è un po' bagazzino Per certe cose Ma il concetto è carino Sì Ma mi piace E' bellino in questa grafica E' figo lo slow motion La slow motion è proprio figo C'era una delle parti più belle Quando non avevano messa su Max Payne Ancora mai ricordo Quando sparavi tutto In slow motion Cioè Vabbè Pensa con un minigun A sparare tutti Ma posso schifare? Infinita sto fustare No mi vuole far giocare Ok ce l'ho fatta Meno male Dove è la nostra Lamborghini adesso? Nel garage Quindi a casa nostra Hey Ma ci hanno troffato? No lo so Non credo Forse nel garage Quindi a casa nostra Steph Perché che fa? Balla Rompigli la radio Rompigli la radio Sta ballando a Gangnam Style No è troppo bellino per picchiarlo Cioè sta ballando bene Ha questi boffi fucsia Con la cresta verde acido Che io apprezzo molto No Steph No no Dai è troppo carino È scappato Oh è arrivata la Lamborghini Nel mentre Ok a posto Non potevamo scegliere il colore arancione Non mi piace Eh vabbè Dai ci sta Allora Ok è veloce È un bolide Era tipo il primo Cosa gli avevo detto? Cosa gli avevo detto? Devi sceglierli Ok frena 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 Sì è velocissima Ecco Non ti interstri nei ponti Ti prego Tranquilla Siamo a due stelline di polizia Arriviamo a cinque Per vedere che succede Voglio quello anch'io Rubalo 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 Secondo te perché mi stavo fermando? Saremo più lenti Ma che spettacolo Questo è il miglior gioco del mondo Cioè È pieno di veicoli È la figata Cioè ne ha già messi tanti Chi deve investire? No vabbè Le macchine le sbalzi di brutto Ci vai sopra Totalmente Allora Aspetta Devo fare retromarcia Sono un attimo scarso Poi se vedi Stanno aggiungendo anche i negozi Un sacco di roba Burger Spellino Allora Mi scusi Buongiorno Ma quello lì ha investito un tipo da solo Ah perché l'ho sbalzato io E l'ho obbligata ad investire in un'altra macchina Vai Cioè sono proprio orribile 3 di 5 Le scritte sono fantastiche 4 di 5 Come? C'era un tipo Non l'hai visto? No Sono talmente gigante che non lo vedi neanche Ma secondo me posso salire sulla montagna? Sì Cioè regge tutto questa macchina Questo Come si chiamavano? Monster track Sì Guarda 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 Ci scaliamo tutto Questo è il monte Ciliad secondo me Sì anche secondo me Dai che lo finiamo Oh yes E adesso discesa Adesso discesa Adesso discesa Quindi adesso si muore Dove stiamo finendo? Secondo me è successo fuori dalla mappa No Tutto a posto Dai 5 stelline Voglio vedere che succede con le 5 stelline Ma questo che fa? No E non è una figata sto gioco Steffa il cantiere a distruggere tutti vai Non c'è nessuno da investire qua Non ti era piaciuto il cantiere? Sì va bene Bello ci possiamo fare un nascondino là Ma ascolta è multiplayer sta roba Peccato Altrimenti avremmo giocato insieme Magari non volevi giocare con me Non si sta mai Ci sta Perché lo sai che poi io non mi stacco più da sti giochi Finisce sempre male Ci sta Allora È bello Da qui si sale Chi devo picchiare? Non c'è nessuno È abbandonato? Non lo so Tipo così devo fare Anche il parkour c'è Ok Ci sta Buongiorno Lei Ma non sembra una persona tranquilla Ma non sembra una persona tranquilla questa Secondo me poi è un'accetta Steff Però non lo posso più chiare Vabbè È un stato Ehm Posso? No? Come no? È pieno di soldi Aspetta Dai Ti prego Che bellissimo Ti prego Aspetta È persa per un attimo C'è anche una mega granata Non posso No è per i soldi Posso prendere i soldi Allora no Eh vabbè C'è solo qualcosa di strano qui Secondo me è colpa di quel tipo Vero? Ah sì Se arriva la polizia Che mi sta colpendo? L'elicottero? Uh Con 4, 6, 5 arriva l'elicottero Scappa Steff Scappa Torna in macchina Torna in macchina che dobbiamo fare 5, 5 Ma aspetta Non è che ho la polizia dietro? No No ma va Guarda lì Aspetta Tenete Ok Scappa 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 Ma Oh cavolo Oh cavolo Che hai combinato? Ho fatto esplodere la gente Buia Quattro siamo già a 2 di 5 Ok Le abbiamo perse le stelline Oh L'hai visto? Sì Bellissimo Cos'è la stunt mod? Non lo so Ah che lo puoi muovere così Sì E vieni ricompensato con i soldi? Muovi il telefono vai Steff Scatenati Eh ma Credo che devo avere tipo Sì Funziona? Sì ho fatto 2 dollari Oh mio Dio È bellissima sta roba Allora ti faccio vedere E come faccio a far vedere? È un buon casino È un buon casino Perché se lo muovi Ok aspetta Steph Il re degli stunt Ben è tornato Lo so Totalmente Sei pronta? Sì sono pronta È il momento Questo non lo vedrò mai Però vai Allora Aspetta Aspetta Ci serve una bella rampa Ok Siccome ne ho visto una lì alla destra Può essere? Ci serve una rampa Dateci una rampa Ok Qua almeno c'è pianura Non posso sbagliare Questa qua Pronta? Eh vabbè Vedi? Eh vabbè Bellissima sta roba Bellissima Cioè siamo ancora in capriole? Eh sì Eh sì E che sto a fare? Carina sta giunta Dai è un bel gioco Ben fatto È bellino Bellino Cioè è molto più pensato Per essere Ho rotto il gioco 76 dollari Hai fatto tipo un per 5 per 6 Che non finiva più Steph Qua Da qualche parte C'è un rampone Ok vai Pronta? Sono oltre la mappa secondo me 62 dollari Ottimo Ho fatto un volo che non finiva più Bellissimo Bellissimo È una figata sta roba È una figata Perché gliel'hanno data questa opzione? Acceleriamo Attenzione Basta Lascia per Qua sotto Compariamo dei video Iscrivetevi al canale Campanellina Ci fermiamo Like Gioco bellissimo Non so se c'è altro da fare Però è davvero carino 3 dell'istante Ovvio C'è visto E ci fermiamo Ciao 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 Ciao